Siamo qui oggi con Simone Benedetti, intanto grazie di essere qui con noi per l'Interla Siamo Noi e volevo chiederti, l'anno scorso tu sei arrivato a gennaio, quanto è stato importante invece quest'anno iniziare facendo la preparazione? No, è stato importante soprattutto perché è una stagione nuova, si riparte tutti da zero e bisogna dimostrare un'altra volta quello che magari si è fatto l'anno scorso e cercare di fare il più possibile. Prima di tutto ovviamente la salvezza e poi magari come l'anno scorso, sebbene una cosa in più, ben venga. L'infortunio di Ceccarelli ti ha dato comunque anche in questo precampionato un po' di continuità che magari ti era mancata un po' l'anno scorso. Penso anche questo per la partenza sarà per te importante anche a livello fisico? Nei, sicuramente, anche quello. Sicuramente mi dispiace assolutamente per Luca. Io sono arrivato a febbraio che loro erano già comunque una coppia importante e rodata. Quest'anno si parte da zero e poi il mister deciderà chi far giocare. Giogare poi a fianco dei due ragazzi come Pellitzer e Ceccarelli per te può essere molto importante anche per la loro esperienza nella categoria? Certo, sicuramente. Luca è quello un po' più grande dei due. Ci dà anche lui tutte e due le giuste direttive in campo. Invece fuori dal campo, una curiosità con chi ti trovi magari meglio? No, sicuramente con tutti. Sono un bel gruppo, bravi ragazzi e riusciamo a legare comunque abbastanza con tutti. Questo fine settimana parte il campionale Serie B. Le tue impressioni anche quanto sarà importante la differenza tra sintetico e erba normale? La differenza è tanta. Il sintetico è particolare. È sempre più meglio giocare sull'erba perché comunque il rimbalzo lo conosciamo bene. Il sintetico è un rimbalzo diverso dal pallone. E per chiudere una cosa che chiedo un po' a tutti. Qual è il calciatore a cui tu ti ispiri? Ma ispirare come giocatore, come eroe, diciamo, onesta. Che è quello, secondo me, il più forte che c'è. Ok, in bocca al lupo per la stagione e forse Antella.